Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo episodio di Spiritsy with me, Cristiano Cervini, e più precisamente con l'aggiornamento giornaliero per quanto riguarda lo scandalo PDD. Preparatevi, probabilmente con quello che vi andrò a dire oggi, boh, vi scandalizzerete ancora di più di quanto siete stati scandalizzati fino a questo momento. Se sarà possibile, fatto sta che finalmente qualcuno ha rotto il silenzio, qualcuno vicino a PDD ha parlato tramite un comunicato stampa per difenderlo, e sto parlando niente po' di meno che di sua madre. Ma sempre di lei ci sono delle teorie in America che stanno facendo molto parlare, che cambierebbe molto la situazione. Fatto sta, correte quindi a mettervi comodi a prendere il vostro drink o snack preferito, mettete mi piace a questo video, mi raccomando, anche perché ora ci daremo dentro, perché da ora in poi, con l'inizio del processo, tutte o quasi le notizie che usciranno dal 9 ottobre in poi, saranno assolutissimamente vere perché fuoriescono direttamente dall'aula di tribunale. Ma, ragazzi, se non vi volete perdere nemmeno un mio video aggiornamento per quanto riguarda tutto questo scandalo, ma anche per quanto riguarda tutti gli altri video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi le notifiche. Ma, bando alle ciance, ciancio alle bande, abbiamo già parlato abbastanza per l'intro, sorso iniziale. Ah, non ce la faccio più, raga, troppi affè, io non dormo più la notte in questo caso, ma ormai ci siamo dentro con tutte le scarpe. E iniziamo perché, appunto, la notizia shock di oggi è che la madre di Sean Combs, quindi P. Diddy, P. Daddy, Daddy, Diddy, Love, chiamatelo come volete, ha finalmente rotto il silenzio in favore del figlio che, come ben sapete, sta aspettando in una cella isolata in carcere l'inizio del suo processo. Ormai lo sappiamo a memoria come quando dovevamo studiare le poesie alle elementari. Lui, per tutti i capi d'accusa, rischia dai 15 anni di carcere fino all'ergastolo, ma vedremo cos'è successo. La mamma di P. Diddy si chiama Janice Combs e proprio ieri ha pubblicato un lungo comunicato stampa in cui parla del proprio figlio e soprattutto ha chiesto a tutti noi di aspettare la verità di P. Diddy, di aspettare che il suo figlio parli finalmente e che dica la sua storia, che dica la sua versione dei fatti. Non dobbiamo quindi giudicarlo per tutti i gossipi, rumor o le teorie del complotto che sono uscite in questo momento perché il suo figlio sicuramente si farà sentire e non è il cattivone che tutti noi abbiamo additato fino ad ora. Vabbè, su di lei ho indagato, ma prima andiamo a tradurre questo comunicato. Janice Smalls Combs, la madre di Sean Combs, attraverso il suo avvocato e per conto della famiglia di Combs, rilascia la seguente dichiarazione. Oggi vengo da voi come una madre che è devastata e profondamente rattristata dalle accuse fatte contro mio figlio, Sean Combs. È straziante vedere mio figlio giudicato non per la verità, ma per una narrazione creata da bugie. Ma, insomma, vabbè. Prima leggiamo, poi vediamo, perché lo so che mi viene da commentare, ma devo resistere. Testimoniare quello che sembra essere un linciaggio pubblico di mio figlio prima che abbia avuto l'opportunità di dimostrare la sua innocenza è un dolore troppo insopportabile per essere messo a parole. Come ogni essere umano, mio figlio merita di avere la sua giornata in tribunale, di condividere finalmente la sua parte, la sua verità, e di dimostrare la sua innocenza. Non sono qui per ritrarre mio figlio come perfetto, perché non lo è. L'abbiamo visto, raga. Ha commesso degli errori nel suo passato, come tutti noi. Mio figlio potrebbe non essere stato del tutto sincero su certe cose, come negare di essere mai diventato violento con una ex ragazza quando la sorveglianza dell'hotel ha mostrato il contrario. Allora, amo, scusa, ma io non ce la faccio. Non è che lui prima aveva soltanto mentito dicendo che Cassie, la sua ex, lo stava accusando soltanto per popolarità o perché voleva rubargli dei soldi, ma in realtà sappiamo che lui ha cercato addirittura di dare delle mazzette ai vigilanti dell'hotel e a tutto il cucuzzaro di quest'hotel per far sì che questo nastro sparisca. Quindi, non è propriamente, oddio poverino, uno che ha picchiato selvaggiamente una sua ex ragazza e questo io non lo posso negare perché purtroppo esistono i video, allora significa che tutto il resto è vero. E no, madre mia bella, ci sono delle prove. Vabbè, comunque la madre continua. A volte la verità e una bugia diventano così strettamente intrecciate e che diventa terrificante ammettere una parte della storia, specialmente quando quella verità è fuori dalla norma o è troppo complicata per essere creduta. Questo è il motivo per cui credo che il team legale civile di mio figlio abbia scelto di risolvere la causa dell'ex finanzata invece di contestarla fino alla fine, con conseguente effetto rimbalzo mentre il governo federale ha usato questa decisione contro mio figlio interpretandola come un'ammissione di colpa. Amore. E qui siamo tutti d'accordo. Però, nel senso, è vero che tutto è nato, è venuto fuori grazie alla denuncia di Cassie, ma se te, invece di impugnare questa denuncia e dire no, non è vero, è tutto falso, hai deciso di scendere a patti privatamente dandole un monte di soldi pur di farle ritirare la denuncia, significa che qualcosa di vero c'era. E infatti i nastri che poi sono usciti questo marzo hanno dato la ragione a lei. Quindi è normale che poi si indaga su tutto il resto. Vabbè. È importante, continua la madre, riconoscere che nessuno di noi, indipendentemente dal nostro Stato, è immune alla paura o agli errori. Non essere del tutto diretto su una questione non significa che mio figlio sia colpevole delle accuse ripugnanti delle gravi accuse mosse contro di lui. A molti individui che sono stati ingiustamente condannati e successivamente scagionati è stata loro tolta la libertà non perché erano colpevoli dei crimini di cui erano accusati, ma perché non si adattavano all'immagine di ciò che questa società considera una brava persona. E su questo discorso io sono d'accordo con lei. Ma ci sono le prove. Vabbè. La storia, continua, ci ha mostrato come gli individui possono essere condannati ingiustamente a causa delle loro azioni o errori passati. I picchià la tua ex ragazza, ma selvaggiamente dentro un hotel, per non farla scappare dall'ascensore e riportarla in camera per fargli chissà che cosa, non è stato un errore. Punto. Guardare il mondo, fare battute e ridere della vita di mio figlio che si sgretola davanti ai nostri occhi è qualcosa che non posso mai dimenticare. È davvero agonizzante guardare il mondo voltarsi contro mio figlio così rapidamente e facilmente per bugie e idee sbagliate, senza mai ascoltare il suo lato o Friggi, l'opportunità di presentare il suo lato. Queste bugie lanciate sono motivate da colore che cercano un guadagno finanziario e non dalla giustizia. Queste persone hanno visto quanto velocemente il team legale civile di mio figlio ha risolto la causa della sua ex ragazza, quindi credono di poter ricevere un giorno di paga veloce accusando falsamente mio figlio. False accuse di violenza ostacolano le vere vittime di violenza dall'ottenere la giustizia che meritano. A peggiorare le cose, il governo federale sta ora usando queste bugie per perseguitare mio figlio. Questa ingiustizia è stata insopportabile per la nostra famiglia. La parte peggiore di questo calvario è guardare il mio amato figlio spogliato della sua dignità, non per quello che ha fatto, ma per quello che la gente sceglie di credere di lui. Chiedo ai suoi sostenitori, fan, colleghi, amici e al pubblico di non giudicarlo prima che tu ne abbia avuto la possibilità. Per ascoltare la sua versione. Ti prego di pensare a coloro che sono stati ingiustamente perseguitati, di ricordare che non tutti coloro che hanno commesso errori nella vita meritano di avere tutta la loro esistenza giudicata da una singola azione o da pochi errori. Mio figlio non è il mostro che lo hanno dipinto di essere, merita la possibilità di dire la sua versione dei fatti e che io posso solo pregare di essere ancora viva per vederlo dire la sua verità ed essere rivendicato. Rispettosamente presentato a nome di Janice Smalls Combs e dalla famiglia Combs. Allora raga, io posso capire la preoccupazione di una madre verso un figlio che è allo sbando, che è alla berlina, alla mercè di tutto il mondo. Tutti noi ne abbiamo parlato, tutti noi lo abbiamo anche un po' diciamo accusato e soprattutto su internet ci sono meme, su meme, su meme, soprattutto dopo l'uscita della notizia che gli agenti federali hanno trovato ben mille bottigliette di olio Johnson. Li vedo anch'io questi meme, ok, ogni tanto fanno ridere se non pensiamo a tutto lo schifo che c'è dietro. Io capisco anche che una madre dice aspettate ad accusarlo perché la giustizia non ha fatto ancora il suo corso, il tutto deve ancora iniziare, tutto quello che sta uscendo sono solo illazioni. E su questo io posso anche essere d'accordo perché è vero siamo tutti innocenti fino a prova contraria ma signora mia in questo caso di prove ce ne sono e come e soprattutto te hai basato questa lettera su un errore passato di tuo figlio perché te praticamente dai la colpa al fatto che il tuo figlio abbia picchiato la sua ex ragazza che lo ha giustamente denunciato e che invece di controbattere a questa denuncia dici che tuo figlio ha sbagliato perché per venirne fuori il prima possibile è sceso a patti privatamente dandogli dei soldi e quindi adesso tutti stanno cavalcando l'onda accusano tuo figlio di cose assurde a detta tua soltanto perché hanno capito che è una cosa facile per far soldi. Io posso anche essere d'accordo con questo discorso ma c'è qualcosa che non torna perché numero uno ripeto l'aver picchiato selvaggiamente più volte la sua ex ragazza non si tratta di un errore ma si tratta di un tuo essere che è sbagliato che devi pagare quando viene denunciato. Ora questa storia è finita perché come ho già detto Cassie ha ricevuto un assegno molto sostanzioso per ritirare la denuncia e per non andare poi a processo ma grazie a questa news a questa notizia molte altre ragazze fino a questo momento si tratta di 12 ufficiali hanno preso coraggio e hanno denunciato tuo figlio per degli abusi subiti in tutti questi anni. È vero che quando succedono cose così gravi molte persone purtroppo vogliono approfittarsene per raccimolare un po' di soldi ma è anche per questo che per esempio l'avvocato che rappresenterà 120 vittime che lo hanno contattato in questi giorni ha accettato appunto soltanto tra virgolette 120 casi su più di 3200 chiamate ricevute. Quindi la scrematura già c'è ma se ragazzi in 3.000 telefonate qualcuno di falso ci potrà essere ma se questo avvocato ha scelto 120 significa che queste 120 persone hanno delle prove inconfutabili e soprattutto se il tuo caro figliolo è stato arrestato non per l'errore passato di aver picchiato la sua ex ma per tutte le cose che sono fuoriuscite dopo ed è stato arrestato dagli agenti federali non dal primo poliziotto incontrato per strada significa che di prove ce ne sono abbastanza e ce ne sono fin troppe non ti bastano le 3200 telefonate contro tuo figlio ci sono le 12 denunce che sono ufficiali e che andranno a testimoniare contro tuo figlio non ti bastano nemmeno queste perché dici vogliono sfruttare il momento è scritto persino te c'è il video che lo incastra picchiare la sua ex e quindi del fatto che lui sia un tipo violento con il sesso femminile quello è una prova può essere anche vero che oddio è successo per errore una sola volta perché boh magari non lo so cos'è successo ma ragazzi quando un uomo si comporta così non è mai per una volta o al massimo due volte lo fa costantemente non ti basta nemmeno questo allora come mai nessuno di questi amici parla in sua difesa io non sono un giudice sono uno come voi a cui piace parlare un po' di gossip e soprattutto adesso di questa storia che ci sono intramato fino al midollo il fatto è che la cosa che io ho pensato fin da subito se tutte queste accuse non fossero vere e qualcuno avesse preso di mira per incastrarlo oppure per sgretolare tutto il suo potere il suo impero qualche amico potente lui ce l'aveva non bastava nulla un post sull'instagram è innocente lo stanno facendo nero perché ha pestato piedi sbagliate e invece nessuno ha parlato a suo favore ma nessuno non ti basta nemmeno questo? gli agenti federali hanno raccolto come prova migliaia di ore di video registrati durante le feste di tuo figlio dove a detta dei più informati in questi video ci sono delle cose assurde delle cose schifose delle cose che non riguardano solo violenze e abusi contro delle donne ma anche contro dei minori anche contro dei bambini e anche contro altre celebrities non lo so di quali altre prove hai bisogno anche se lui non fosse l'unico ma è innocente il tuo bambino poverino è stato incastrato perché ha fatto un errore qualche qualche tempo fa dai su c'è dentro con tutte le scarpe poi che non sia l'unico o che oppure sia il pesce piccolo sacrificabile posso essere d'accordo con te ma smettila di santificare chi non è santo perché in queste settimane sono uscite delle robe delle registrazioni delle documentazioni delle denunce delle testimonianze che non lasciano altri dubbi ma se è pur sempre comunque una madre che cerca di difendere il suo bambino raga ho indagato un po' su chi fosse questa Janice Combs e ho visto che moltissimi content creator americani hanno parlato già da tempo di lei qualcuno addirittura l'accusa di essere in qualche modo complice di Puff Daddy per questi freak off party nel senso vi vado a spiegare tutto c'è una prima teoria che vuole la madre sapere innanzitutto dei comportamenti poco legali del figlio ma che abbia in qualche modo voltato la testa verso l'altra parte per far finta di non vedere poiché appunto Sean Combs le portava molti soldi e quindi le faceva vivere la vita di lusso che ha sempre voluto c'è anche un'altra teoria che dice che in realtà è lei l'artefice dell'organizzazione di alcuni di alcuni white party quindi poi freak off party di P. Diddy che avvenivano nella sua villa a Miami poiché si dice che questa villa di Miami appartenga non a P. Diddy ma alla madre e che quindi siccome ci abitava lei lì era di sua proprietà poi che gliela abbia comprata al figlio quello non lo metto in dubbio ma amore arrivano ogni settimana festini su festini in casa tua un te ne accorgi di nulla te vuoi farmi pensare che è stato fatto tutto di nascosto vabbè non ci credo ma c'è anche un'altra teoria la teoria vuole addirittura che Janice Combs fosse proprio una di quelle persone che portava le vittime quindi le ragazze proprio ai parti di P. Diddy perché dicono questo in America dicono addirittura che Janice sia stata la mandante dell'omicidio di suo marito padre di P. Diddy che appunto perse la vita durante una storia quando P. Diddy era piccolissimo aveva solo 2-3 anni si dice anche che dopo questo fatto lei si mise insieme proprio all'omicida del babbo ma questa è solo una teoria del complotto io sono più dell'idea che in realtà il padre di P. Diddy è stato fatto fuori dalla mafia new yorkese perché si era immischiato in affari un po' troppo più grandi di lui e ne abbiamo già parlato in qualche parte precedente dicono però in America che Janice dopo la morte del padre per cercare in qualche modo di sopravvivere o di sbancare Lunario ha dovuto fare addirittura tre lavori contemporaneamente di cui uno era quello ragazzi il lavoro più vecchio più antico del mondo e se lo portava addirittura a casa e che questo ha fatto sì che P. Diddy crescesse in una maniera un po' sbandata dato che lei portandosi clienti in casa e lui era piccolissimo quindi era lì in questa stessa casa è stato esposto alla sessibilizzazione dei corpi delle persone per proprio piacimento o per denaro fin dalla tenera età e quindi ovviamente crescendo in questo modo e soprattutto con questi esempi è normale che poi cresci deviato da chi dice addirittura che la madre ha iniziato a fare il lavoro più antico del mondo ma che poi sia salita di livello infatti molti la chiamano madame come se fosse una matrona e quindi ragazzi da qui si arriva che lei avrebbe un giro di prostituzione sotto di lei lei è la comandante e che quindi portava le ragazze e non ai parti del figlio e così rimaneva un po' tutto con gli affari di famiglia allora io alzo le mani queste sono solo teorie queste sono solo le cose che vanno per la maggiore nei content creator americani io ho visto tutte queste notizie tramite loro ma di ufficiale ovviamente non c'è niente molto probabilmente secondo me sono tipo delle illazioni che sfociano anche in diffamazioni però quasi tutti in america dicono questa cosa ma c'è di più raga perché sta circolando soprattutto su tiktok un video di qualche anno fa che vede protagonisti pididdi e sua madre seduti nel giardino di casa di pididdi e parlano ok in questo video succede questo non so se avete notato qualcosa oltre al bacio in bocca tra madre e figlio che ultimamente sto vedendo sempre più madri che baciano il proprio figlio sulla bocca io l'ho sempre visto come una cosa non disgustosa ma strana non è normale perché baci tuo figlio in bocca cioè non lo so fatto sta che ognuno è libero di fare quello che gli pare loro avevano questo rapporto e va benissimo perché vi ho mostrato una parte di questo video poiché da questo video si è estrapolato una nuova teoria e quindi si è estrapolato il fatto che la madre in realtà non solo sapesse delle feste di PDD ma partecipassse e le organizzasse attivamente in quanto sullo sfondo tra PDD e la madre non so se l'avete notato ma c'è una flebo e voi direte vabbè non è normale ma sarà normale se non fosse che nella nella prima denuncia di Cassie l'ex ragazza di PDD di cui abbiamo parlato abbondantemente lei dopo aver descritto determinate cose che era costretta a fare e quindi di essere registrata a fare Pem Pem contro la sua volontà anche con Escort per esempio lei dice che dopo questi festini per riprendersi e per far riprendere le vittime dalla nottata piena di pillole di alcol e di abusi Sean Combs gli faceva le flebo ed era molto comune farsi di flebo ed era molto comune farsi di flebo dopo i parti per riprendere un po' le energie e quindi le persone vedendo la flebo dietro di loro hanno detto aspetta voi vedete che c'è stata una festa il giorno prima e che quindi hanno usufruito di questa flebo per riprendersi per avere un po' le energie dato che hanno fatto baldoria per tutta la notte boh potrebbe darsi fatto sta che non passa inosservato un altro particolare che riguarda la madre di P.D.D. in questo video e il particolare sarebbe lo smalto bianco alle unghie delle mani della madre ragazzi io non lo sapevo ma ho scoperto dello smalto bianco gate in quanto gli americani hanno urlato allo scandalo vedendo questo smalto bianco perché si sono resi conto che la madre di P.D.D. molto spesso è stata fotografata con lo smalto bianco alle unghie e in molti hanno fatto anche un collegamento con la denuncia dell'ex ragazza di Sean Combs Cassie che nella sua deposizione della denuncia disse anche che il rapper la costringeva a mettersi lo smalto bianco durante le sessioni di ripresa capite a me quelle pempere pempempose poiché a P.D.D. gli piaceva molto e lo eccitava anche perché secondo lui questo smalto bianco risaltava la bellezza del colore della pelle delle persone afroamericane e quindi le persone hanno fatto 2 più 2 e si sono dette ma un è che questa cosa o magari obbligava anche sua madre a farlo e quindi magari c'è stato un incesto tra di loro oppure è la madre che lo ha cresciuto facendo quello che faceva di cui ho raccontato prima che però sono ancora solo teorie magari gli ha raccontato dal ragazzino che lei era solita mettersi lo smalto bianco proprio per risaltare la bellezza della sua carnagione e quindi questo è stato poi immagazzinato nella testa di Pididi che crescendo ha avuto questo fetish raga non lo so fatto sta che in molti sono sicuri del fatto che la madre di Pididi in realtà fa la finta tonta ma è una complice attiva di questi parti e di questi abusi allora queste sono le cose che ho trovato io in queste ore riguardante Giannis Combs riguardante appunto il suo comunicato abbiamo tradotto e ci abbiamo fatto l'analisi logica grammaticale per quanto è possibile io non sono molto d'accordo con le sue parole per via di determinate cose che ha detto e ne abbiamo parlato fatto sta che ormai ci siamo raga il processo ufficialmente inizierà penso a regola domani non so quando vi metterò questo video ma comunque il 9 ottobre ci sarà la prima udienza che non sono sicuro che sia la prima vera e propria udienza in tribunale o se è soltanto una pre dell'inizio vero fatto sta che dalle ultime notizie che ho letto dai media americani a regola già il 9 ottobre PDD dovrebbe essere interrogato e quindi avremmo da parlare di questa cosa ancora a lungo ora per il momento però ci fermiamo qua domani ci saranno i video su Temptation Island la quinta puntata e poi vedremo se ci sarà qualche novità interessante Spilling the Tea dedicato allo scandalo Sean Combs PDD è sempre qui per voi fatto sta per il momento fatemi sapere tutto quello che pensate riguardante la madre di PDD e tutto quello che lei ha detto in queste ore fatemi sapere se sapete altre cose su di lei se avete letto qualcos'altro se siete venuti a conoscenza di altre novità i commenti sono sempre aperti mettete mi piace a questo video mi raccomando se anche voi non aspettate altro che l'inizio del processo iscrivete al mio canale attivate la campanella per avere le notifiche mi raccomando e vi ringrazio perché siete sempre di più e questo caso vi sta appassionando come sta appassionando me anche se dire mi sto appassionando a questa cosa capisco che è una cosa brutta per via dei fatti che sono accaduti che sono delle robe schifosissime per via delle vittime che stanno soffrendo e hanno sofferto le pene dell'inferno però allora diciamo che mi sto ossessionando per questo caso perché voglio scoprire la verità voglio scoperchiare insieme a voi il vaso di Pandora e scoprire chi è che ha lavorato insieme a Jay-Z per questi free coughs schifosi ma per ora sto zitto e ci vediamo domani al prossimo video ciao ciao ciao